E adesso? Facciamo una passeggiata. Cosa? Una passeggiata. Dove? Là! Ma dici sul serio? E che cosa aspettate? Tommy... non è una cosa normale? Sono i grandi spazi questi. C'è l'aria fresca. Guarda, Tommy, sappiamo che ti va di cacca con Lizzi, ma scusa tanto, non c'è bisogno di rifartela su di noi. Non vi sentite orgogliosi di essere scozzesi? È una merda essere scozzesi! Siamo il peggio del peggio! La feccia di questa cazzo di terra! I più disgraziati, miserabili, servili, patetici, avanti, che siano mai stati cagati nella civiltà! Ci sono quelli che odiano gli inglesi, io no! Sono solo delle mezze a seghe! D'altra parte, noi siamo stati colonizzati da mezze seghe! Non troviamo neanche una cultura decente da cui farci colonizzare! Siamo governati da palle mosce! Noi siamo in una situazione di merda, Tommy, e tutta l'aria fresca del mondo non potrà cambiare uno stracazzo di niente! Scusa, bello, scusa! No, scusa tu, Tommy, che immaginava che sarebbe... Come va? Scusa, bello, scusa! Scusa, bello, scusa!